Lei parla di economia, qual è la situazione a Crotone? Guardi, l'economia, è chiaro che Crotone vive una situazione critica dal punto di vista del lavoro e soprattutto del lavoro giovanile. Posso dire però che i tanti cantieri che sono già stati avviati in città e soprattutto quelli che partiranno implementeranno notevolmente il lavoro. E questo è importante, questo è quello che può fare l'amministrazione comunale. Per quanto riguarda il PNRR avete già avviato tutti i progetti? Allora sul PNRR siamo a buon punto, abbiamo rispettato tutte le scadenze sino ad oggi, tanti cantieri sono già iniziati e tanti li abbiamo già mandati a gara e sono andati a buon fine. Per cui Crotone vedrà a breve altri cantieri, tutti di una certa importanza. Per le strade? Guardi, per le strade stiamo, chi vive la quotidianità della nostra città vede i tanti interventi che stiamo facendo. Adesso in questi giorni siamo stati a Papanici, abbiamo fatto il largo ospedale, faremo Corso Messina, veramente una riqualificazione che non si vedeva da decine di anni in città.